Siamo davanti al Teatro Lirico di Milano per documentarvi l'ennesimo sblocco dei lavori di recupero del teatro. Come sapete, abbandonato da oltre dieci anni per vari motivi politici e burocratici. Dietro le mie spalle stanno lavorando e noi proviamo ad entrare per curiosare. Eccoci, sono in compagnia dell'architetto Luciano Colombo, il vincitore del concorso del recupero del Teatro Lirico. Buongiorno architetto, qual è la situazione attuale dopo più di dieci anni di fermo? Buongiorno, i lavori sono ripresi finalmente, in due anni dovremmo finalmente finirli questi lavori. Dopo varie battaglie legali, burocratiche, amministrative siamo arrivati a questo punto. Ci può spiegare il progetto? Il progetto era nato per riqualificare sia il teatro che la via larga, che è una via per una serie di scelte urbanistiche, è una via morta. Non è un solo teatro, ma sarà un ristorante dei negozi e delle sale retail e delle sale conferenze. La cosa innovativa, forse curiosa, è che il tetto del teatro scende come una piattaforma, copre interamente le poltrone della platea, rendendo così, prima di tutto, unico con il tetto che sarà di vetro. E soprattutto permette al teatro di poter ospitare manifestazioni diverse dal teatro. La risposta è che vorrebbero sentire tutti. Quando sarà inaugurato? Da oggi, fra circa 20 mesi. 20 mesi. Quindi quanto costerà la realizzazione del teatro? La previsione è da 25 a 28 milioni di euro. In questi ultimi anni i lavori sono stati bloccati per ben tre volte. Da chi e per quali motivi? Inizialmente c'è stato un ricorso tipico italiano al concorso da parte del secondo arrivato che ha causato un ritardo di circa tre anni. Poi i motivi veri non si conoscono, comunque il teatro è stato bloccato con varie scuse dall'assessorato della cultura, poi dalla sovrintendenza con dei ricorsi che poi si sono visti nulli e quindi oggi finalmente abbiamo il via libera totale. Siamo sicuri che questa volta andrà bene? Sicuri in Italia è quasi impossibile dirlo. Effettivamente con tutte le battaglie che sono avvenute sul teatro non ci dovrebbero essere più ostacoli. Ovviamente se lei è d'accordo, architetto, noi fra qualche mese torniamo qui per vedere come procedono i lavori. Volentieri, magari possiamo farne addirittura un appuntamento fisso ogni qualche mese e vinti a trovarci. Va bene, a questo punto io la ringrazio. Architetto Colombo, grazie mille per la sua disponibilità. Esclusivamente per Life Milano dal Teatro Lirico, sperando che sia una volta buona, è tutto.